La piccola 208 si allunga, cresce e diventa un crossover, aggiunge anche uno zero al nome, diventando così 2008 ma mantenendo lo stesso pianale. La francesina, su cui Peugeot sta combattendo nel segmento più agguerrito del settore, banta marcata personalità, leziosità stilistiche e grinta. In un abitacolo ben rifinito e luminoso, dove a richiesta si può avere anche il tetto panoramico, vicino al volante di dimensioni ridotte e ad un quadro stumenti in posizione rialzata, ecco un grande schermo intuitivo al centro della plancia, oltre a luci e cromature ovunque, che fanno degli interni un trionfo di modernità. Per la 2008 si è deciso di non toccare il passo dell'auto da cui deriva, ma di aumentare lo spazio mantenendo intatta l'atmosfera dell'abitacolo. Dimensioni giuste quindi per la città e il tempo libero, anche perché messa alla prova con il 1.6 turbodiesel da 115 CV sotto il cofano, la vettura si fa apprezzare per l'elasticità e l'erogazione fluida della potenza, con una conseguente gradevolezza di guida. Su terreni difficili, dove crossover simili sarebbero entrate in crisi, appare disinvolta. Basta toccare la manopola sulla console centrale che il Grip Control, a cinque modalità di guida, consente di migliorare la motricità su fondi a ridotta aderenza, assicurando così una migliore trazione. Nel traffico cittadino, invece, è sinonimo di maneggevolezza e agilità, ed elargisce soddisfazioni anche quando si comincia a spingere di più sull'acceleratore. Grazie per la visione!